Tauci, ultimo sabato di agosto, siamo in pieno periodo di saldi, domani ci sarà il trofeo Matteotti di ciclismo a Pescara, diverse strade saranno chiuse al traffico per buona parte della giornata, i commercianti sono arrabbiati per questo. Sì, nonostante che siamo felici che si faccia anche quest'anno il trofeo Matteotti, ma pensavamo e sapevamo che tutto venisse svolto di domenica. Questa condizione di fatti brucia l'ultimo sabato di agosto dei saldi, poi verrà tutto settembre ancora di saldi, però era un sabato importante per quanto riguarda anche i turisti presenti nel territorio, quindi una chiusura delle strade penalizzerà tutto il commercio di Pescara ma anche quello di Montesilvano. Avete parlato anche con l'assessore del comune di Pescara, con l'amministrazione comunale, ma d'altronde la data era stata però già decisa? No, assolutamente non c'era nulla da poter decidere adesso, non eravamo messi al corrente e questo anche per il futuro deve essere un metodo da cambiare perché chiudere una strada, strade così importanti, devono essere fatte anche in accordo con le associazioni di categoria. L'occasione però propizia anche per parlare proprio di questo periodo molto lungo dei saldi estivi, come stanno andando gli affari da Ucci? Purtroppo male, il saldo dopo un Covid, dopo tante preoccupazioni da parte del consumatore non è partito come doveva e quindi è naturale che questo sabato era un'occasione in più, visto che il commercio di via vive del sabato e non della domenica come centri commerciali, un'occasione in più per poter fare qualche economia e reggere questo scossone importante che purtroppo produrrà a breve riduzione di posti di lavoro e chiusure importanti in termini di numeri di attività commerciali.